Mi piacerebbe riunire gli attori baresi in un teatro, ci riuniamo tutti e facciamo delle serate di improvvisazione, tutti gli attori baresi, e tu vuoi venire? E che clinica? Dove? Che ospedale? In un teatro da decidere, mi piacerebbe che usiamo questi lunedì per riunirci noi tutti insieme per fare queste serate che saliamo sul palcoscenico, senza canovaccio, liberi proprio! Senza fare i versi, perché io la birra per loro non la bevo, perché i versi, i versi alla città o alla luna, a chi fa i versi? Cosi liberi, liberi, come un posto di... Ma con gli altri attori? No, preferisco vivere!